Cari amici di Asliquo, credo non ci sia occasione migliore per augurare buon compreanno ad Opera Domani che qualche minuto prima della generale di Milo e Maia a Virgi. Con tutto l'affetto e la stima auguro ad Opera Domani mille e ancora mille progetti meravigliose e iniziative che credo rappresentino l'investimento migliore, più importante che possiamo fare per il pubblico e per il futuro dell'Opera. Un grande abbraccio.